Benvenuti a Top Secret che vi racconta le eccellenze dell'imprenditoria italiana Questa sera sono con Claudio Buffagni, presidente e amministratore delegato della Canon Medical Systems SRL Benvenuto Grazie, buonasera Canon che tutti noi siamo abituati a concepire in un certo modo, in realtà non è solo quello che conosciamo noi, è ben altro Non è solo il mondo della macchina fotografica, perché si conosce per quello o per le stampanti per computer Che è quello che in pratica sul consumer si trova, ma non è solo quello, è tantissimo altro Addirittura il mondo Canon è, oltre che nel mondo della stampa, quindi stampa alta risoluzione, via dicendo È quella del mondo medico, sanitario, quindi la parte del care Di una importanza fondamentale, fondamentale, adesso ne parleremo, parleremo dei prodotti Comincerei però dalla storia di questa azienda Ma la storia è abbastanza lunga, perché in pratica la parte di Canon Medical nasce nel 1914 Ah Quindi ha veramente tantissima storia È sempre stata un'azienda che si è mossa nel settore dell'imaging diagnostico, si chiama E quindi è un'azienda che ha sviluppato tutta la sua tecnologia proprio per dare risposte a quello che sono le necessità del mondo della sanità Senta, qual è la filosofia aziendale? Allora, bisogna un attimino fare un po' di chiarezza Canon Medical System fa parte in pratica del gruppo Canon Inc, che è azienda giapponese, anche lei Sede a Tokyo e in pratica è una delle marchi più riconosciute a livello mondiale Parliamo in pratica di essere nelle top 100 aziende o marchi a livello mondiale È un'azienda che in pratica ha circa 187 mila dipendenti a livello mondiale La parte medicale ha 11 centri di ricerca a livello mondiale E sviluppa in pratica tutti i prodotti direttamente lei e produce tutto in Giappone Quindi in pratica ha 5 impianti produttivi in Giappone È un'azienda in pratica con una filosofia che nasce dalla parte di Canon utilizzando una parola giapponese Che è chi io sei E questa parola giapponese in pratica ha un significato Che ha un significato che vuol dire in pratica vivere e lavorare per il benessere Quindi in pratica è un qualche cosa che fa riferimento in pratica a un modo di lavorare Vivere per il bene di tutti Quindi di tutte le persone e di tutto il sistema nel quale è inserita l'azienda E quindi l'attività dell'azienda Quindi lei parla giapponese? Io non parlo giapponese, qualche parola l'ho imparata negli anni Perché ho lavorato con il Giappone veramente moltissimo Nella mia carriera professionale Ho più o meno 25 anni di esperienza con le aziende giapponesi E qualche parolina l'ho imparata Soprattutto per chiedere ai giapponesi gli sconti Ecco, bene Quelle si imparano subito quelle parole lì E' una cultura molto diversa dalla nostra Ok, ma veramente molto interessante Ed è un piacere lavorare con questi signori Realmente Parliamo del call business dell'azienda Cioè che cosa fate? Noi in pratica ci occupiamo di tutto quello che è la parte definita Diagnostica per immagini Cioè in pratica abbiamo tutte quelle che sono quelle strumentazioni Che permettono tramite le immagini di arrivare a una diagnosi O andare a supporto di attività Il che significa ecografia Cosa più semplice da capire Oppure TAC Sistemi a risonanza magnetica Sistemi angiografici E tutto quello che è la parte di IT Della gestione di questo sistema di immagini Ok? Quindi questo è tutto il nostro call business Che c'è una importanza ormai fondamentale Per la salute di tutti noi Direi proprio di sì Ok? Ed è uno dei punti sui quali l'azienda in pratica è focalizzata principalmente Cioè dare risposte a quelle che sono le necessità in pratica Dei clinici da un lato Certo Ma soprattutto dei pazienti Quindi delle persone che hanno la necessità di in pratica accedere a quel tipo di esame Possiamo anche alla prevenzione che è diventata fondamentale Sì, è fondamentale Quindi viene utilizzata per quello In Italia la prevenzione è ancora un qualche cosina Sinceramente Che a livello di laboratorio di analisi sì Ma quando si parla nella parte diagnostica Siamo un pochettino ancora forse indietro Perché c'è una grossissima richiesta Quindi in pratica sappiamo tutti perfettamente Nel mondo della sanità Ci sono grosse liste di attesa Per fare esami specialistici come questi E di conseguenza Siamo un po' indietro per la parte del prevenzione Certo Ci sono i miei affari di più Senta Qual è la vostra clientela di riferimento? La nostra clientela si rivolge in pratica a tutto quello che è il mondo ospedaliero A tutto il pubblico privato A tutti quelli che sono centri diagnostici Quindi proprio a tutto quello che è il mondo della sanità Non so quante aziende ci sono al mondo Che fanno questo tipo di macchinari Che sono macchinari importanti, fondamentali Immagino anche costosissimi da un punto di vista Costo è sempre un punto di vista No Beh cioè vale la vita di una persona Vale ben altro Ci mancherebbe altro Vale anche Quali sono le differenze con i vostri competitors? Ma diciamo che esiste un concetto di fondo Che è quello in pratica della grossa attenzione Che l'azienda dà realmente a quelle che sono le necessità Dei clinici e le necessità poi anche dei pazienti Cioè quindi in pratica a quelle che sono le esigenze Le ho accennato Abbiamo un attimo accennato la questione liste di attesa Esiste tutto un discorso proprio legato a tipi di richieste Quindi il clinico che vuole in pratica avere immagini Sempre più belle, sempre più definite Le faccio l'esempio alla televisione Siamo passati da una televisione, chiamiamola normale A quella ad alta risoluzione HD, poi 4K Adesso si parla di 5, di 8, di queste cose qua E lo stesso discorso quando si parla di imaging è lo stesso Quindi la richiesta è di avere sempre maggiore informazioni e dettagli E risoluzione sempre più elevata Quindi questa richiesta dei clinici per arrivare ad avere delle diagnosi sempre più precise E sempre più definite E invece dall'altra parte richiesta di sempre più esami Quindi sempre più richiesta di pazienti che hanno bisogno di fare esami Il che vuol dire in pratica muovere il tutto in una direzione che permetta di ottenere questi risultati La nostra azienda è molto focalizzata su questa parte E in pratica cosa è successo negli ultimi 5 anni L'azienda ha investito tantissimo in quella che è la parte di intelligenza artificiale Quindi sono stati aperti 5 centri di ricerca e sviluppo specifici solo per l'intelligenza artificiale a livello mondiale In 5 diverse location a livello mondo E in queste location in pratica viene continuamente sviluppata Tutta quella che è la parte di intelligenza artificiale collegata al mondo della sanità Questo ha portato ad avere miglioramenti a livello di qualità di immagine Quindi le immagini sono migliorate Sono diventate più belle, più pulite Quindi risultati diagnostici più facili per gli utilizzatori E dall'altra parte l'intelligenza artificiale è stata anche applicata In tutti quelli che sono i processi di gestione di un'immagine Quindi hanno permesso di velocizzare i processi E di conseguenza creare sistemi che danno una produttività maggiore Quindi in pratica più rapido Se anni fa per fare una risonanza ci si impiegava X tempo Oggi in pratica è X meno Y Quindi in pratica è stato molto più veloce Se prima facevi 3 pazienti in un'ora Adesso ne puoi fare 5 Questo è un po' il concetto Ma con una qualità di immagine superiore Quindi questo è velocizzare da un lato Ma contemporaneamente dare anche una risposta A quella che ha la qualità più elevata dei sistemi Sembra di parlare di fantascienza A me è capitato ai medi di dover fare degli esami molto accurati Sono delle sale dove sembra di essere in un'astronautica Più o meno Più o meno sia L'idea di fare un esame anche abbastanza invasivo E di vedere sullo schermo in tempo reale quello che succedeva Dentro di te siamo vicini alla fantascienza Per alcune cose sì ma in alcune situazioni lo è anche in realtà Perché faccio un esempio Uno dei problemi che ci sono sulle risonanze magnetiche per esempio È quello che viene inserito in un tunnel Con un sistema che fa rumore E che quindi in pratica già lì ti innervosisce Ti senti chiuso L'effetto claustrofobia e via dicendo Allora le nostre macchine Faccio un esempio pratico Hanno eliminato le problematiche di rumore Quindi in pratica non si sente più praticamente nulla Ed è una cosa esclusiva dei nostri sistemi E l'altra cosa molto divertente È che in pratica sono stati inseriti dei sistemi di trasferimento di immagini All'interno del tunnel E uno è come se si trovasse sott'acqua per esempio Ok? Quindi si vede i pesci nuotare intorno e cose di questo genere Quindi parla di fantascienza Sì Perché si cerca sempre di fare tutto orientato al paziente Al benessere delle persone Facilitare il clinico Aiutare il clinico allo sviluppo Cioè quindi nella diagnosi Ma dall'altra parte Mettere sempre il paziente al centro Perché è lui che ha bisogno del supporto È lui che ha bisogno dell'aiuto Stavo per chiedere Ma secondo me siamo già nel futuro Ma come lo vede il futuro? Siamo già a dei livelli pazzeschi di tecnologia Guardi Io le posso dire che in pratica La tecnologia continua a crescere In una maniera spaventosa A una velocità spaventosa La possibilità di continuare a migliorare i sistemi Arrivare ad avere dettagli sempre più piccoli Sulle diagnosi cliniche Ci sarà e continuerà Ok? A crescere da quel lato Il futuro lo vedo però anche a livello di azienda Nel fornire alla clientela Ok? Dei servizi che siano molto più integrati Ok? Concettualmente oggi si continua spesso e volentieri Ad acquisire delle scatole Ok? E non è più realmente il servizio di cui c'è realmente bisogno Che prima le ho parlato di produttività Le ho parlato in pratica di concetti Di richieste sempre maggiori di determinate cose E il concetto che l'azienda segue è quello di fornire un servizio Alla clientela che sia un servizio di copertura generale Quindi in pratica è un servizio a 360 gradi Che permette in pratica non solo di pensare al bene Cioè quindi a sistema Ma in pratica a mantenere sempre il sistema aggiornato Il sistema sempre in pratica all'ultima versione Perché ovviamente si lavora spesso e volentieri Con moltissimo software all'interno di queste macchine E questo in pratica permette questo tipo di attività Considerando che alla fine di tutto questo percorso C'è la salute dell'essere umano È la parte fondamentale Ed è la filosofia fondamentale del nostro azienda La ringrazio molto Per essere molto interessante Grazie È stato un piacere Grazie a lei e grazie a voi